buongiorno a tutti sono qui perché oggi vi voglio far vedere un nuovissimo servizio che è già disponibile per gli utenti che sono all'interno della della university ma è uno di quei servizi che ho appunto creato dopo aver testato per molti molti mesi su me stesso ovviamente per per tutti quanti perché mi sono detto che naturalmente non tutti hanno appunto la possibilità di seguire determinati determinati segnali e quindi allora ho detto perché non che non mettere a disposizione quello che è il mio diario di bordo personale relativo al betting e al trading sportivo soprattutto lo metto a disposizione di tutti nel senso che io la sera prima mi studio tutto quanto il palinsesto della della giornata e mi sono creato praticamente un foglio una pagina su google drive divisa su divisa in fogli che vado sempre naturalmente a migliorare appunto e infatti prima come vedete qui 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 abbiamo solamente per il momento quattro fogli con due di bilanci uno di testa prima ce ne erano addirittura dieci quindi diciamo che vado sempre a migliorare per poter garantire a tutti una maggiore facilità nel seguire una una determinata lista vi spiego un attimino da gennaio ho iniziato appunto a registrare quelli che sono i bilanci di questa questa lista e adesso vi vado a spiegare un attimino cosa vogliono dire queste queste decidure queste decidure qui sotto allora innanzitutto partiamo da dal foglio 538 poi vi faccio vedere anche i bilanci del mese di gennaio che sono stati veramente veramente strepitosi io non non mi sono meravigliato di questi risultati ma naturalmente alcuni che magari non sono abituati a vedere certi numeri si sono meravigliati io no perché naturalmente avendo testato questo questo sistema che è il mio naturalmente non vi andrò mai a dire come vado a appunto a scegliere le partite ovviamente però seguendo la lista appunto so quello che che sono diciamo i risultati che ho avuto nei mesi precedenti chi mi conosce naturalmente sa che non mento ma tutt'altro insomma quello che dico è la pura la pura verità allora incominciamo da questa lista 538 questa è praticamente una lista dove naturalmente io vado ad inserire tutte le le favorite di una di una determinata di una determinata giornata qui ad esempio già ho iniziato a inserire le partite di oggi domani dopo domani e così via e dove praticamente vado a me vado appunto a mettere la quota della partita pre match premetto una cosa tutte le quote che vedete fanno riferimento a bet 365 tranne questa questo foglio gvd che invece fa riferimento a bet fair ed in particolar modo qui come vedete abbiamo ovviamente l'orario il giorno lo abbiamo qui in grassetto abbiamo l'orario abbiamo appunto il nome della il nome dell'evento scrivo solamente la squadra su cui andiamo a puntare e metto il segno in modo che ognuno non non ci si può sbagliare metto la quota odds pre match poi qui abbiamo il profitto o la perdita qualora appunto si giochi pre match e il profitto e la perdita qualora invece ci si 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 faccia cash out o ci si copra al gol appunto della della nostra della nostra favorita questi sono tutti quanti segni segni fissi ok quindi molto molto semplice questo si può naturalmente seguire anche io ho deciso di mettere naturalmente lo stake lo stake fisso a bilancio e anche naturalmente la 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 quota con cui si può uscire in cash out e che vi dico può questo risultato può oscillare di un più meno 4 barra 5 per cento perché io non è che seguo tutte quante le partite però mi vado a guardare quelle che sono le quote quelle che erano pre match quelle che erano invece le quote appunto al gol della favorita e ridico la tabella a fine giornata o dal vivo quando appunto sto quando appunto sto tradando quando sto operando quindi questo molto molto semplice da seguire avete l'ora la data l'evento e il segno e poi passiamo appunto a quello che è come se andiamo su bilanci qui trovate vedete 538 abbiamo avuto sul sul ben 12 unità guadagnate semplicemente coprendosi perché io ho fatto ho messo naturalmente la possibilità di seguire il bilancio a stake fisso perché voglio vedere quello che viene fuori a fine anno però è chiaro che come sapete è molto difficile trovare un servizio che sia a stake fisso prematch profittevole ecco veramente veramente molto molto complicato ce ne sono ma sono dei servizi che costano davvero davvero tanto mentre invece come vedete coprendosi il questa tabella 538 ha dato luogo a ben 12,63 unità stake di 100 euro quindi se avreste fatto appunto ogni puntata da 100 euro e vi sareste coperti al gol della favorita e naturalmente avreste avuto appunto un guadagno di 1263 euro passiamo poi a tx tx prende il nome da un famoso servizio che è tx odds a cui io mi riferisco per redigere questa tabella e anche qui ho iniziato a registrare tutto da gennaio e come vedete qui stessa cosa ovviamente qui giochiamo molto sulle doppie chance e questo praticamente è una lista redatta sui report che vengono da questo servizio nel senso che se c'è un'informazione su una squadra io me la vado a sfruttare e vado a mettere naturalmente tutto quanto tradotto nel segno nella doppia chance soprattutto quando la squadra gioca fuori casa proprio perché voglio essere più coperto che appunto nel seno fisso qualora invece la squadra giochi in casa e chiaramente in questo caso naturalmente la quota è più bassa quindi non permette di fare una doppia chance avrebbe poco senso puntare una doppia chance a quota bassa se andiamo a vedere questo il bilancio di quest'altro foglio a gennaio ha prodotto addirittura 4 unità lasciando andare quindi set and forget diciamo bet and forget diciamo noi che coprendosi appunto ben 6,5 unità come vedete qui nel bilancio trovate anche un bilancio che fa riferimento a over 05 ht over 05 live che sono praticamente gli stessi perché ovviamente non si può fare non ci si può coprire solo per 05 ht live però questo è un bilancio che viene fuori da non lo prendere in considerazione perché viene fuori da una cosa che vi farò vedere dopo sulla tabella gvt da delle quote molto molto basse over 05 ht che chiaramente non si vanno a giocare è solo una cosa mia che voglio testare per un anno per vedere quello che verrà fuori poi a dicembre o a gennaio appunto la tabella che invece trovate sui sui corner è una cosa che sto testando e che sta producendo veramente bei bei risultati su gli under nel senso che qui abbiamo praticamente ovviamente nella prima colonna ci mostra i calci d'angoli previsti che faccia la squadra di casa qui abbiamo quelli che la squadra di casa dovrebbe concedere qui quelli che la squadra fuori casa dovrebbe fare quelli che la squadra di casa dovrebbe concedere e la linea diciamo che di solito da il book quindi in questo caso noi che cosa andiamo a fare questo è un servizio test che ancora non è ufficiale quindi io non vi dirò ancora di seguirlo qualora vi abbonate a questo servizio ma sta dando appunto buoni buoni risultati visto che già ci sono diverse tanti eventi messi in cascina su sugli under nel senso che se si ha questa linea di 7,8 vuol dire la linea 8 si va a giocare under 8 qui in questo caso ne hanno fatti 5 quindi tra 1,80 e 1,90 la quota si possono avere naturalmente degli ottimi risultati tenendo in considerazione naturalmente poi la progressione che si va ad utilizzare ma passiamo direttamente a quella che è la colonna gvt dove praticamente qui abbiamo sempre una lista di eventi dove nella prima colonna abbiamo l'orario relativo al mercato inglese quindi un'ora indietro rispetto al nostro e abbiamo il campionato, l'evento dove tra parentesi abbiamo anche la posizione in classifica delle due squadre e qui abbiamo la quota betfair relativa all'1, all'x, al 2 tutte le quote di valore al botteam to score over 1,5, over 2,5, over 3,5 e over 0,5 ht over 0,5 ht l'abbiamo inserito questo mese perché prima era una tabella a parte e vi farò vedere come naturalmente sta performando anche questo servizio come vedete naturalmente questa è una lista che al 90% viene redatta già la sera prima quindi voi avete già la possibilità naturalmente di stamparvela quella è una cosa che consiglio sempre oppure naturalmente vederla tramite il google drive avrete l'autorizzazione alla visualizzazione una volta che avete appunto l'abbonamento a questo tipo di servizio di cui poi vi dirò anche quelli che sono i costi come vedete ci sono già molti 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 eventi ma la cosa interessante è appunto andiamo a vedere come questo servizio ha performato a gennaio ed in particolare ecco il segno 1 ha dato coprendosi ben 32 unità una perdita invece di 6 unità per quanto riguarda il bet and forget i segni X hanno dato 4 unità di profitto scusatemi 40 unità di profitto e coprendosi invece ben 75 unità la copertura io di solito la faccio a fine primo tempo quindi dovete considerare le quote che ci sono a fine primo tempo se la partita è ancora in pareggio quindi faccio push out oppure mi copro oppure naturalmente più avanti se magari una squadra è già in vantaggio il segno 2 qui pre match o live vuol dire o pre match o punto live vuol dire che ci si copre durante la partita ha dato 41 unità quasi 42 coprendosi addirittura 78 unità il both team true score quindi il segno goal ha dato quasi 38 unità sugli 1,5 invece abbiamo avuto un loss di 6 unità o quasi 7 e un guadagno invece per quanto riguarda l'over 1,5 coprendosi di quasi 8 unità il segno over 2,5 ha dato 12 unità bettandolo a stake fisso e ben 47 unità giocandolo invece coprendosi coprendosi quindi facendo il cash out il segno over 3,5 ha dato un loss di 7,5 unità mentre invece bettandolo a stake fisso ha dato oltre 3 unità di guadagno è chiaro che in questo caso si parla anche nel caso degli over 2,5 o over 3,5 si parla più di fare trading però diciamo che è un servizio che performa anche giocando tutto pre match come vi dicevo abbiamo inserito da poco le quote 0,5 ht infatti a gennaio non le vedete però le vedete già ad esempio a febbraio sono andato troppo avanti qui vedete l'ultima colonna ci sono le quote pre match di una determinata partita è chiaro che io non mi vado a giocare l'over 0,5 ht 1,50 quindi in questo caso attendo che la quota sia almeno un 80 o un 90 però il bilancio fa riferimento a queste quote qui per questo vi dicevo che ha poco valore ecco questo tipo di bilancio è una cosa che io mi sto segnando perché ho in mente una cosa da sviluppare e voglio vedere se i numeri poi mi possono quantomeno accompagnare quindi questo diciamo è il mio diario obiettistico sui campionati maggiori che voglio appunto condividere con voi tutti una cosa che mi preme appunto chiedere appunto sottolineare è appunto questo totale di cui non avevamo parlato prima nel senso che se uno segue tutto cosa tra virgolette per me impossibile ma magari c'è qualcuno che può farlo si avrebbero avuto ben 16 unità solamente copiando le giocate e vedete quante unità di attivo a 100 euro di stake fist si avrebbero avuto se si sarebbe investito coprendosi poi l'investimento durante l'evento vediamo al prezzo entro e per tutto febbraio questo servizio avrà un prezzo che poi non verrà più rilasciato cioè costerà 39 euro mensili ci sarà la possibilità di fare naturalmente l'abbonamento annuale con cui si risparmierà un 20% l'abbonamento semestrale con cui si risparmierà un 15% e l'abbonamento trimestrale con cui si risparmierà il 5% sui 39 euro dopodiché il prezzo raddoppierà e naturalmente ci sarà sempre la possibilità di fare appunto annuale semestrale e trimestrale con quella scondistica o naturalmente 78 euro appunto mensili e quindi questo è quanto spero che vi sia piaciuta questa presentazione di questo servizio che come è chiamato The List questa è già la versione 2.0 cioè era stata già una precedente 1.0 e The List che finalmente è aperta al pubblico intero e nei canali troverete poi tutti quanti i bilanci di gennaio dei vari servizi Elite American Sport Tennis adesso abbiamo attivato anche un altro servizio che è quello di Value Bet Bot Team to Score eccetera singolo quindi troverete tutti quanti questi Masters of Win che ha prodotto altre unità di profitto questo mese quindi troverete tutti quanti questi bilanci quindi The List vi ricordo 39 euro al mese solamente per questo mese chiaramente chi si abbono adesso avrà sempre questo prezzo garantito dal primo febbraio passerà a 78 euro mensili avete naturalmente la possibilità di seguire su qualsiasi tipo di ebook questo servizio chiaramente l'ideale sarebbe quello di seguirlo su Betfair o Bet365 in modo che avete la possibilità di coprirvi appunto molto molto facilmente e velocemente anche da smartphone io vi saluto un abbraccio forte e vi aspetto in The List